Buongiorno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.08, venerdì 28 giugno, thanks God, it's Friday and this is the last dance. Siamo arrivati all'ultima puntata, che emozione, wow, non so come farò oggi ad andare avanti, devo dire la verità. Verranno in aiuto, verranno in aiuto tanti che saranno qui al mio fianco oggi per salutarci, vi chiedo anche a voi di venirmi in aiuto con i whatsapp al 3317853555, vi prego oggi ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno che siate qui con me più del solito, più di sempre, più di tutti i giorni quando noi ci troviamo insieme qua la mattina per partire con il piede giusto, beh oggi ho proprio bisogno perché da domani inizia due mesi di programmazione, di progettazione, anche di vacanza, devo dire la verità, che però appunto poi ci rivedranno il 9 di settembre qui in diretta e quindi bisogna insomma, sarà difficile, poi oggi sarà l'ultimo giorno di Elisa, l'ultimo giorno di Federico, ci saluteremo e quindi insomma, vabbè, è così, Good Morning Milano torna a settembre ma non iniziamo con la tristezza, anzi cerchiamo di iniziare, insomma stanno un po' più su, no? Cioè dai, cerchiamo di cantarcela questa mattina tutti insieme, cerchiamo di stare, di essere allegri, di fare una bella mattinata insieme e lo facciamo con la musica di Crystal Radio qui in diretta su 96.2 FM, Dub Plus e poi le applicazioni per iOS o Android. Mi raccomando, Good Morning Milano finisce ma Crystal Radio avanti tutta, tutta l'estate e potete ascoltarla dove, quando volete, anche sotto l'ombrellone, insomma siamo qui per farvi compagnia tutta l'estate. Gli 883 sei un mito e siete voi il mio mito, siete voi che mi ascoltate tutte le mattine e che passate qui appunto le vostre ore della prima, le prime ore della mattinata, le prime ore della giornata, avete deciso di farle qui con me insieme a voi, davvero grazie come sempre di farci entrare nella vostra routine. È arrivato il Whatsapp di Alberto al 3317853555 e siamo arrivati all'ultima puntata di stagione per Good Morning Milano, faccina che piange. Un saluto e un grazie al direttore Fabio che ci ha accompagnato nell'inizio delle nostre attività quotidiane, grazie a tutte le persone che si sono avvicendate nella sua redazione, in questo caso Elisa, ma io voglio salutare e ricordare anche Viola e Irene che sono state le producer di quest'anno insieme ad Elisa che appunto da settembre a oggi abbiamo portato avanti il messaggio di Good Morning Milano tutte le mattine nelle vostre case, nelle vostre orecchie, nei vostri smartphone. Un saluto agli ospiti presenti in studio al telefono, grazie Alberto anche per ricordare loro e poi a Erika e Silvia e infine un saluto a tutti i cristallini che al mattino sono in ascolto. Buone vacanze a tutti, ci ritroviamo a settembre. Sì, ma abbiamo ancora un'oretta e qualcosa per stare qui insieme, anzi quasi due, un'oretta e tre quarti diciamo, quindi siamo ancora qui che possiamo raccontarcela e possiamo essere pronti poi per settembre, anzi prima di tutto però c'è un appuntamento domani, bisogna essere pronti, domani c'è il Pride, c'è la parata del Pride, ore 15, concentramento in via Vittorio Pisani davanti alla stazione centrale, poi 15.30 partenza del corteo da Piazza Repubblica a lungo, via Liberazione, intorno alle 18 dovrebbe arrivare la parata a piedi, arrivare fino all'arco, certo fino, dovrebbe arrivare in arco della pace e poi dalle 18 in avanti, grande evento in arco della pace per festeggiare il Pride, la chiusura soprattutto del mese del Pride. Il Pride di Milano ormai chiude quasi sempre il mese del Pride, è un importante appuntamento, quello di domani che c'è a Milano e su Repubblica, infatti troviamo anche un'intervista a Francesca Michielin che poi si esibirà alla fine della Kermess, così dice la Repubblica, insomma dopo la parata sul palco si avvicineranno vari artisti e artiste, tra cui appunto anche Francesca Michielin che su Repubblica lascia un'intervista molto interessante sul Pride, sui diritti, ma anche su Milano perché c'è un'ultima domanda che gli dice se avesse la bacchetta magica che cosa cambierebbe di questa città e cosa invece esporterebbe, quindi parliamo proprio di Milano. Io sono nato in Veneto, è la mia regione, che invece eccelle per solidarietà e volontariato e sicuramente meno pronta ad accogliere alcune tematiche che Milano ci sono affrontate in modo esplicito e con numerosi eventi, quindi esporterei lì e altrove il dibattito, il confronto, la possibilità di esprimere le proprie idee che è propria della mentalità delle grandi città, mentre per quanto riguarda Milano come detto la renderei accessibile a tutto, soprattutto da un punto di vista economico perché appunto la domanda cosa mi dice di Milano, certamente è una città che accoglie il dibattito che permette alle idee di circolare e questa manifestazione appunto del Pride ne è la prova ad essere sincera però credo che sia troppo costosa, soprattutto per i giovani e questo è un tratto che la rende distante dai problemi delle persone più fragili e insomma giustamente Michelin riconosce la bellezza della nostra città nell'accoglienza, nel dibattito nell'apertura mentale anche, nell'apertura proprio anche di braccia ad accogliere chiunque in questa città purché come si dice però si stia alle regole di questa città e la prima regola difficile per questa città è quella del riuscire a sopravvivere in questa città per i prezzi, per il caro prezzi, per la vita che costa tantissimo in questa città. ARIANA GRANDE Questa è la musica di Cristiano Radio, questa è Cristiano Radio che io ringrazio tantissimo inizio già con i ringraziamenti adesso, saranno due ore di ringraziamenti ve lo dico quindi anzi mi raccomando voglio sentire anche la vostra voce 331-7853-555 scrivetemi, raccontatemi come sarà quest'estate raccontatemi i vostri progetti quest'estate e soprattutto voglio ringraziarvi uno per uno per averci appunto fatto entrare nella vostra routine quotidiana mattutina nel momento in cui molti di voi veramente non parlano neanche con la propria parte del proprio marito non vogliono sentire di fianco nessuno tengono ancora i cellulari spenti fino all'ultimo secondo prima di uscire di casa beh, in quell'istante noi comunque siamo lì con voi a parlarvi e raccontarvi quindi davvero grazie per farci entrare nella vostra vita ogni mattina non saprei come fare senza questo infatti saranno due mesi complicati ve l'ho detto anzi se volete lasciarmi il vostro numero di whatsapp io vi chiamo la mattina dicendovi good morning, Giovanna come va? good morning, così faccio, capito? se volete io ve lo faccio sì, non credo sia molto piacevole effettivamente un conto è sentirmi alla radio un conto è se vi rompo le scattere direttamente a casa vostra comunque questo è il good morning Milano grazie ancora a chi sta scrivendo in questo momento fra poco arriverà anche Lorenzo Masieri qui con noi ve lo ricordate Lorenzo Masieri? è proprio lui, sì, qua della cheesecake del Carlo Porta no, non solo quello quello che ha fatto con me buona parte di questa stagione quindi insomma abbiamo aperto insieme a settembre e vogliamo ovviamente chiudere insieme adesso qui al 28 di giugno un po' di musica poi torniamo qui perché c'è anche Eri B con i suoi appuntamenti con gli eventi della settimana a cui non andrà Eri Muginea con Marecchia alle 7.34 minuti oggi è venerdì al venerdì bisogna fare un po' il piano di quello che si fa magari nel weekend o in questo caso in tutta l'estate visto che oggi è l'ultima puntata Gli eventi della settimana a cui non andrei perché stai già ridendo? perché non ho tutti gli eventi fino alla fine ma me l'avevi promesso settimana scorsa no, in realtà forse mi sono dimenticata nel momento in cui li facevo perché ho pensato solo a questo weekend cioè non è che non li hai cercati vabbè cari amici avete capito che sono un po' così una stagione intera che l'abbiamo capito che sei così oh che bello oggi è l'ultimo giorno sì per fortuna già è andato per fortuna nel senso sì no siamo abbastanza ostracchini devo dire la verità comunque dai a me mancano due settimane per dire questa cosa vedi 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 ah che bello che bello comunque ci scrive Marilena good morning Fabio ci mancherai tutte le mattine grazie per aver fatto compagnia tutte le mattine ci sentiamo a settembre anzi ci vediamo a settembre anzi ci sentiamo così scrive scrive anche Adriana buongiorno Fabio mancherai mancherete tantissimo anche voi ma tranquille tranquilli che da settembre torniamo e torniamo ancora più forti di prima sarà veramente un settembre pazzesco va bene pazzesco se devi continuare a farti i fatti tuoi col cellulare fai pure se no se vuoi darci scusi le indicazioni di che cosa possiamo fare no ma rispondiamo pure a tua madre non c'è problema mamma mia quanta permalosità per fortuna finisce così allora intanto prima di tutto evento di oggi a cui io sicuramente non andrò è il concerto dei Club Dogo San Siro sono già pronta per far partire tutte le belle parolacce per trovare parcheggio e per tornare a casa posso dire però che Club Dogo non lo so ma quello di Sfere Basta non ha dato problemi di parcheggio non ha dato problemi di parcheggio non so dall'altra parte sicuramente sì ma di qua dalla parte di qua di Via Novara devo dire no ma molto probabilmente perché sono così giovani che non hanno la macchina ti guardavo male soltanto perché l'hai nominato Sfere Basta va bene ho capito per me lui è nella blacklist ma farò finta di niente e fa niente andiamo avanti quindi i concerti in cui non andrei Sfere Basta assolutamente anche Club Dogo purtroppo li sento da casa tra l'altro quello di Sfere Basta apre chiudo parentesi si sentiva veramente tantissimo non so se era il pubblico giovane che a ogni cosa faceva così c'era dell'isteria di gruppo sì esatto vabbè primo concerto Club Dogo Club Dogo niente non si va poi so che con questo secondo evento darò fastidio a qualcuno però a me non interessa io non andrò sicuramente ma perché ci sono già andata in passato e ho detto ok va bene basta a concerti di Max Pezzali perché povero Max Pezzali? perché è un gran karaoke degli 823 ma credo che sia proprio quella la volontà del fatto l'anno scorso lì lì due anni fa lì lì se non ricordo due anni fa bello provato questa esperienza basta basta Max Forever lei ci va gli piace e basta ma poi no nel senso ben tre giorni 30 giugno 1 luglio e 2 luglio e secondo me lì problema parcheggio ce ne sarà tanto sì anche perché c'è una certa etacola che scontano i spezzali che arrivano qua sotto con la macchina fino all'ultimo metro ah un altro evento a cui io sicuramente non andrò ma in realtà non si va nessuno ma si partecipa guardando è la partita dell'Italia che però ragazzi questa volta vi svelo questo trucchetto ah io non seguo le partite dell'Italia non seguo le partite dell'Italia fino a che se dovesse mai andare in semifinale o in finale ho deciso ho deciso questa cosa di modo che la semifinale segui già più di me io non seguirei neanche la semifinale e la finale ma faccio una cosa più interessante che però non sempre si può fare cioè questa volta sabato l'Italia gioca alle 18 quindi io alle 18 e un minuto sarò al supermercato in che senso perché vi faccio questa rivelazione tutti guardano la partita dell'Italia ma che rivelazione quindi questo sabato alle 18 partirà Italia-Svizzera con cui io ho un contenzioso quindi con cui quindi io non guarderò questo posso raccontarla questa cosa raccontiamo il contenzioso con la Svizzera allora a ottobre 23 andiamo in Svizzera abbiamo un contenzioso aperto con la Svizzera no in realtà ormai non più però infatti però fa niente andiamo in Svizzera ok prendiamo una multa ok questa per eccesso di velocità andavamo a 35 all'ora dove si andava a 30 ci ha fatto proprio la foto l'abbiamo vista prendiamo la multa mi arriva a casa la pago con un po' di ritardo ed erano tipo 100 euro ok che già insomma vabbè ho fatto l'italiana pago in ritardo e pago quella lì esatto dopo neanche forse 15 giorni mi arriva una fantastica mora questa fantastica mora sono 180 franchi 180 franchi sono più o meno 188 euro ok vado a pagarla non c'era tempo per pagarla cioè ti dicono o la paghi o quando arrivi alla nostra dogana noi possiamo addirittura fermarti il veicolo ok quindi cosciente del fatto che purtroppo dobbiamo passare in Svizzera e apri chiudo la parentesi fare la vignette ok che costa 50 euro più o meno pago sta roba pago con bonifico internazionale perché ok era un un IBAN svizzero infatti perché la prima multa la prima svizzera è arrivata la prima multa è arrivata con IBAN tedesco perché è in euro perché è in euro in euro invece questa qua era in franchi e ha detto vabbè tra l'altro poi chiudo parentesi io ho medio banca e non mi faceva fare il bonifico estero fa niente fa niente comunque uso banca intesa esiste ancora medio banca prima si chiamava che banca adesso è diventata medio banca è tornata a essere medio banca piccole cose di così di economia ma sì io di finanza non avendo soldi non ho questi problemi vabbè faccio il conto il IBAN bonifico da banca intesa bonifico estero internazionale vuoi mettere a carico tuo o a carico del insomma del ricevente le spese e sulla multa c'è scritto deve essere tutto a carico tuo perché loro stanno già cosa stanno andando in conto esatto sapete quanto costa fare un bonifico verso la Svizzera a me sembra assurdo ragazzi 32 euro la multa da 187 euro è diventata 219 euro iupi iupi du comunque l'ho pagata posso entrare in Svizzera non vale per 5 km all'ora esatto posso andare in Svizzera e niente questo è un piccolo aneddoto ecco perché gli svizzeri vanno mai più veloci ecco perché gli svizzeri vengono in Italia e fanno quello che vogliono ecco ma comunque questa piccola digressione era per farvi capire che in Svizzera dovete stare lì però agli eventi di una settimana a cui non andrai la Svizzera non è in quello tu ci andrai in Svizzera io ci passerò in Svizzera non fermerò sì lo so che mi piace è tutto così ordinato sembra di stare in Giappone quindi per forza con l'unico fatto che parla un tedesco è più bello è più sonoro il giapponese vabbè io vado avanti con i miei eventi o vuoi mettere una musichina se vuoi però io andrei posso mettere una canzone vabbè sì metti una canzone mettiamo i The Colors mettiamo allora i The Colors con Karma e Amore a Prima Insta ma mi hai rubato la cosa volevo dirlo io è stato Amore a Prima Insta veramente bella questa canzone è la che si faceva i fatti suoi si è vista benissimo anche della webcam che ci abbiamo in diretta oggi è l'ultimo giorno devono fare tutto spaccate tutto a settembre ci serve tutto ancora che funzioni vabbè dai andiamo avanti allora 28 e 30 giugno quindi questo weekend in Piazza Libertà a Cornaredo ok c'è la festa della birra eh non sei contenta posso dire una cosa andando anche se dico di no dice lo stesso ma perché d'estate e a ottobre si fa sempre sta festa della birra ma che palle ma non possiamo fare la festa la festa del giro del ginger hate del ginger beer ieri abbiamo bevuto la ginger beer fantastica non è alcolica non si può fare una festa dove non si vendono alcolici no si facciamo la festa dell'acqua frizzante adesso farò mi metterò su in piedi a ottobre una bella festa dell'acqua frizzante ma ottobre poi ma perché ottobre perché ho deciso che ottobre è il mese giusto fine settembre a fine settembre faccio la festa dell'acqua frizzante cioè non capisco bevi responsabilmente e poi andiamo a fare queste feste beh poi bere responsabilmente nessuno beve responsabilmente non hai fiducia nel genere no no assolutamente andiamo avanti c'è un altro evento che tu butteresti via la testa in piazza Gramsci che è non mi ricordo vabbè in piazza Gramsci a Milano dal 28 al 30 di giugno c'è il festival della Carbonara e si che butto via la testa però posso dire una roba anche questo sul progetto nato perché io credo di averlo detto almeno un'altra volta ah pensate no a piazza Gramsci sono benissimo dove pensavo fosse non so perché si chiamasse piazza Grandi invece no a piazza Gramsci è quella che c'è a Chinatown per intenderci ecco ah ho capito ho capito forno a Piero della Francesca ok fanno il festival della Carbonara pensa col caldo ma no ho capito ti bevi poi una birra bevi responsabilmente ah chiaramente dentro ai miei eventi a cui non andrei c'è non c'è il Pride perché chiaramente andrò alla parola del Pride spero non nel troppo caldo e sicuramente non farò il colteo questo sicuramente è così se fai la festa dell'acqua frizzante non so come va se fai la festa della Ginger Beer Adriana dice brava Eri anche io quoto la festa della Ginger Beer sì vanno allora ho scoperto questa cosa siccome il ginger si sedimenta sul fondo della bottiglia allora secondo me in realtà vanno messe dentro dei bicchieri esattamente come se fosse una birretta sì devi per forza berla perché quando l'ho assaggiata ieri sera abbiamo venuto nella bottiglietta non è che puoi agitarla più di tanto se no fai così e quindi ok io continuavo già questa bottiglietta però effettivamente sul fondo rimane un po' di sedimento vi do questa novità ieri sera io e Fabio abbiamo riprovato la Ginger Beer perché nel 2014 quando siamo stati in Tanzania abbiamo bevuto credo milioni di litri di Ginger Beer e lì sì che ce n'era di fondo penso che ne abbiamo portati delle cose in Italia e le abbiamo buttate perché si era proprio fatto bene il fondo nel volo erano andate a quel paese tutto a quel paese tutto a quel paese vi lascio con l'ultimo evento ma poi devo fare degli auguri faccio prima l'evento e poi faccio degli auguri allora al Parco Mattei di San Donato forse la nostra Elisa sa anche bene dove è ma credo di saperlo anch'io Parco Mattei è quello grosso che c'è lì all'ingresso vero Elisa quello dove siamo stati anche Parco Mattei di San Donato è quel parco si dice si è quello posso dire Parco Mattei è quello del Leni cioè quello lì nel senso c'è una roba a cui io non andrei ma in realtà forse sì è il Vikinga Fest in che senso il Vikinga Fest eh fanno la festa no si chiama Vikinga non Vikinga ah Vikinga Fest eh fanno delle rievocazioni viching è festa vichinga sì a San Donato a San Donato col caldo famosissima città dei vichinghi però magari se ci sono i vichinghi possiamo andare vabbè vediamo intanto Adriana ci scrive che ragazzi sono arrivato al lavoro vi abbraccio ci risentiamo a settembre certamente buon lavoro Adriana buon lavoro ebbè così buon lavoro io volevo fare in conclusione degli auguri ah auguri a chi innanzitutto volevo fare tanti auguri di buon compleanno al Balzo sì che ieri ha compiuto 30 anni 30 anni associazione del Balzo a Baggio hanno fatto una bellissima festa c'erano delle sedierine messe fuori si stava bene è stato divertente c'era Lady Violet che metteva i dischi insieme ad Andrea Variale ci senti ormai l'MC l'MC uso un mezzo pubblico per uso improprio vorrei fare parole a caso ho detto l'ho detto giusto sì sì volevo fare gli auguri il mio amico Andrea Andrea che oggi compie credo 36 anni ma come credo ho perso il conto il mio amico poi non sai quanti anni compie sì ma tanto fa niente anche se ne compie 16 va bene lo stesso va bene così sì cerca di non morire almeno oggi ecco arriva anche Alberto salutarti meglio salutare Erika dice un saluto a Erika buona estate e altre 317853555 quindi anche i saluti di Alberto sono arrivati Erika Alberto io ti ringrazio ma la mia estate parte fra due settimane ho capito cosa vuoi sei qui adesso Pia ti saluti e via sempre polemiche comunque posso posso sponsorizzare un mio profilo in che senso un mio profilo Instagram va bene profilo ah se volete vedere le mie vacanze insieme alla persona che viene con me andate su Instagram e cercateci come One Clip A Day One Clip A Day sì A Day e sarà divertente va bene ragazzi io vi ringrazio come sempre è stato un piacere spero di poter venire anche l'anno prossimo cioè l'anno prossimo insomma settembre ok e niente buonanotte al secchio ecco ho invitato ah vedi Alberto anche lui gli auguri deve fare dice augurami un nipote Federico che domenica compie 17 anni grande Federico nato sotto il segno del cancro è vero Ronaldo invece è nato sotto il segno del Lorenzo Masieri Ariete ma vorrei dire pesci visto che c'è quest'odio profondo di ieri e i confronti di Antonello Venditti giusto in realtà no lo apprezzo soltanto per notte prima degli esami e in questo momento anche compagno di scuola hai visto compagno di scuola stupendo eh sì Fabio non apprezza ma non è che non apprezza no Venditti non mi è mai piaciuto lo sei finito in banca pure ti sei salvato sei finito in banca pure tu sì infatti Fabio è così non sono finito in banca sono finito qui a sentire voi due castronerie comunque invece complimenti alla maglietta di Lorenzo Masieri descriviamola per chi ci sente in radio è la maglietta di Super Giovane dei degli eroi delle storie tese la canzone degli eroi delle storie tese in cui Mangoni interpreta questo supereroe che combatte di Matusa combatte i signori milanesi lui si sente un super giovane anche lui no lui secondo me si sente un Matusa alle 7 di mattina mi sento tutto tranne che un super giovane mi sento tutto era già più bello mi sento mi sento su Ponte di Agrizo mi sono sentito tutto come è stato fare il Ponte di Agrizo in bicicletta con la nuova pista ciclabile infatti non è cambiato niente ah perché non c'è la pista ciclabile infatti ecco visto che abbiamo iniziato a settembre dando questa notizia che doveva arrivare la pista ciclabile ci ritroviamo al 28 giugno e niente pista ciclabile ancora no assolutamente ma chissà per quanto tempo poi però si vedrà sono fiducioso beh fiduciati no per chi sta guardando c'è un segno inequivocabilmente italico che scusami mi viene una citazione sentiti fiducioso ah no 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 sono dalla sua parte non sono dalla parte di nessuno però fa niente però ti dispiace in fondo no è la sua povera hai appena detto no sì ma perché mi fanno posso dirlo un po' pena tutti e due soprattutto mi fa pena in questo momento due cose in realtà i bambini che non si vedono più ma chi se ne frega i due cani cioè raga è arrivato il cane di Fedez che si chiama Silvio in onore di Silvio Berlusconi a me ne sai che me l'ho persa questa cosa chiudo parentesi chiudo parentesi io no non me l'ho persa ma avrei voluto perdermelo dico la verità sì 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 va bene ma in maniera ironica me lo auguro si chiama ufficialmente sì sì chiaramente me lo auguro dopo lo scherzo a Salvini non so però comunque basta ok basta ecco mi sono perso io sono fermo a sei mesi fa dopo facciamo un recap e gli dico ma Carlo Manguzzi è ancora capogruppo non è più capogruppo lo so per questo l'ho detto va bene dai va bene ragazzi buon divertimento happy day va bene andiamo avanti con la musica e poi appena ritorniamo giornale radio e poi qui con Lorenzo Masieri per fare l'ultima ora per chiudere questa stagione di Good Morning Milano come l'abbiamo aperta e Duran Duran con Notorious 8 e 09 Crystal Radio Good Morning Milano 28 giugno 2024 venerdì oggi si conclude la prima stagione qui su Crystal Radio di Good Morning Milano che è iniziata l'11 settembre quando alle 7 del mattino qualcuno ha detto Good Morning Milano Lorenzo Masieri eccolo qui con noi buongiorno ciao a tutti buongiorno a tutti cari cristallini ben ritrovato ben ritornato come stai grazie mille tutto bene voi bene bene vi ho seguito tantissimo sì non l'ho mai ascoltato perché sappiamo benissimo che a quest'ora tu se non c'era l'obbligo di venire qua diciamo che ho io ora l'invertito diciamo che c'è il podcast ecco puoi recuperarci con il podcast va bene insomma Lorenzo abbiamo iniziato l'11 settembre l'anno scorso non è passata di acqua sotto i lavigli eh sì no sui lavigli anzi sotto acqua su eh no eh sì 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 però cosa è cambiato cos'è cambiato Fabio aggiornami un po' allora ti dico la verità io da quando abbiamo finito ai primi di gennaio sì primi di gennaio sì quindi bentornato Lorenzo intanto arriva un whatsapp d'Alberto grazie grazie Alberto grazie mille allora cosa è successo che praticamente se il mio livello informativo prima era che ne so 80 sì si è ridotto a 5 ok perfetto quindi mi devi un po' aggiornare sulle vicende ok allora prima di tutto ti aggiungo anche se anche se mi è stato detto io racconto sempre questo aneddoto che anche qua poi l'informazione piano piano non è vero non capisco chi ti abbia dato questa notizia siamo andati sempre più sull'entertainment eh beh quasi infatti infatti guarda Lorenzo ci mancava la tua voce su Ava alle 8 del mattino whatsapp da Marilena grazie Marilena grazie Marilena io cerco ho cambiato voce nel frattempo ho cercato anch'io di diventare proprio Lorenzo Masieri la mia voce suave ripeto che è sempre data dalle 2 ore di sonno benissimo beh ma tante novità scusa Milano cioè no ci sono lasciati che Carlo Monguzzi ad esempio era il capogruppo dei Verdi in comune e niente niente è noi è noi che eravamo Radio Carlo Monguzzi quante volte è stato fatto questo jingle da quando sono no Elisa puoi dire che l'ho fatto tipo l'altro ieri no no l'ho fatto si si conferma no 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 conferma c'è un podcast l'altro ieri abbiamo letto la notizia dove Monguzzi era arrabbiatissimo per la nuova nomina dell'assessore alla casa del comune di Milano e ho detto appunto Radio Carlo Monguzzi ci sono state le europee nel frattempo ci sono state le europee sì ci sono state le europee ci sono anche le comunali nei comuni intorno a Milano nelle amministrative quindi insomma abbiamo avuto su Milano News il dibattito tra i candidati sindaci di Setteo Milanese e l'ho visto qualcosa vedi quindi no cosa ne è successo no si sta scherzando si sta scherzando è successo ad esempio questione stadio l'hai seguita? zero grande novità noi ci eravamo lasciati che volevano radere al suolo San Siro ti ricordo a gennaio più o meno ci eravamo lasciati che volevano radere al suolo San Siro e costruirne uno a Rozzano e uno a San Donato allora in realtà sulla carta è ancora così ma sembrerebbe che invece no il sindaco Sala ha detto ristrutturiamo San Siro e tutti contenti adesso sono lì che insieme a WeBuild a fare i render di come si può ristrutturare lo stadio no vabbè come Santiago Bernabéu l'abbiamo sempre detto e quindi anche lì Carlo Moncuzzi si è arrabbiato ma perché perché quella è prassi quella giustamente è prassi io sono veramente contento che alcune cose non siano cambiate da inizio gennaio poi cos'è che è successo cos'è che è successo di importante a Milano ma oggi ad esempio scusa se prendo un attimo di tempo così oggi ad esempio è il compleanno di Simone Lunghi l'angelo dei Navigli quindi insomma ad esempio è una data importante chissà che magari fra qualche anno non staremo a casa perché sarà il nuovo patrono l'angelo dei Navigli Simone Lunghi non più l'8 dicembre facciamo il patrono ma il 28 giugno 7 7 dicembre scusate io lo sbaglio sempre sbaglio regolarmente e no perché l'8 è immacolata e quindi lo sbaglio sempre tra 7 e 8 non so perché e poi cos'è che allora avevamo iniziato dicendo è la stagione dei concerti che si è appena conclusa eccetera eccetera adesso siamo nel mezzo della seconda stagione dei concerti ma senza concerti in contemporanea uno ce n'è stato in contemporanea ma soprattutto perché cosa è successo no non ci sono più concerti in contemporanea diciamo tra San Siro e gli poteri tranne una data il 30 giugno mi sembra che ci sarà una sola posizione grossa ma il problema è un altro non si hanno fatto i conti con il Latin Festival a Quinto Romano che ha fatto saltare tutto il banco perché ci sono i concerti in contemporanea c'è la navetta che ti porta da Piazza dell'Otto fino a là i posteggi che la gente non sapeva sposteggiare quindi in realtà ci avevano provato ma alla fine ha fatto un disastro anche lì e io invece da alcune notifiche di ATM mi pare che ce ne sia stato uno un paio di settimane fa però potrei tranquillamente sbagliare c'è sicuramente poi il tema della Maura dove ormai è veramente ingestibile la gestione dei concerti tanto che quando uno dei primissimi concerti hanno chiuso anche i residenti non hanno fatto passare neanche i residenti hanno chiuso agli autobus ATM non passavano agli autobus della TM cioè è una roba veramente assurda infatti insomma è successo un po' di tutto tutti un po' arrabbiati faccio un faccio un coming out coming out per varie ragioni che non vi sto qui a dire mi sono trovato fuori dal concerto di Lana del Rey all'ippodromo la Maura perché sei una delle ragazze di Lana del Rey tu sei una gruppi di Lana del Rey lo sappiamo no io al massimo sono stata una bambina di Conte ai tempi delle bimbe di Conte delle bimbe di Conte esatto ai tempi della pandemia c'era più gente fuori che dentro però era pieno 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 di gente e ho notato che era tutto completamente blindato fuori ai mezzi si 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 non era impossibile che è bellissimo come idea se fossi in un'isola deserta lì però ci abita della gente ci passa della gente ma tra prende se poi pensa che chiudono le strade è già partita al mattino quindi c'è una roba allucinante comunque però vabbè dopo mi sa che oggi è l'ultima puntata non so te l'ho detto ma certo sono qua a posto se no questo sai dove ero vi devo dire una cosa sapete qual è il problema quando è andato via a gennaio si è andato via le chiavi dello studio io non ho potuto chiudere lo studio fino ad oggi perché lì a lui oggi sei tornato a chiudere si oggi poi basta lasciami le chiavi sotto lo zerbino che almeno a settembre posso capire senza scomodarti anche se anche se potresti diventare sicuramente in apertura in chiusura mi chiamerai bravi se vedo che l'hai già capito ne sono sicuro allora io al signore David Letterman ok io invido tantissime cose una cosa non l'invido perché ce l'ho più bella di lui che è la barba bianca perché devo dire la verità è più bella la mia della sua ma invidio il fatto di aver avuto Bill Murray come primo ospite della prima puntata del Letterman del late show di Letterman e come ultimo ospite quindi ho deciso che io tutti gli anni avrò il mio Bill Murray che sei tu ok quindi tu tutti gli anni dovrai venire qua mi devi citare anche una parte di Ghostbuster a questo punto ho deciso adesso devo imparare ogni anno una scena nuova di Ghostbuster e tu sei il mio Bill Murray allora mi tengo libero mi tengo libero per inizio settembre 9 settembre 9 settembre alle 8 del mattino sei qua sappilo 9 settembre alle 8 del mattino va bene o sei in vacanza no ok adesso mi racconti le tue vacanze perché secondo me andrai al mare così ho questa idea perché tu sei uno da mare così anzi lo dice anche sono da mare mare è da mare mare e quello dice anche infatti Luca Carboni mare mare Luca Carboni il mare che potremmo vedere da domani qui da Good Morning Milano ma che in realtà invece a me non piace il mare quindi non andrò al mare quest'estate invece Lorenzo Masieri dove vai in vacanza? on the road on the road again where? rientro dall'inglese perché come sai non lo so bene no faccio un giro faccio un giro in campeggio si va verso la costa brava però non quella troppo turistica quindi non l'ore dei mar no ci fermiamo un po' prima di l'ore dei mar un po' prima di Tossa dei Mar e si sta lì un po' di giorni in base a come se ci si trova bene se ci si trova male Cavatina a Barcellona e poi si torna su sulla costa azzurra non turistica anche lì vorrei trovarla la costa azzurra non turistica c'è una zona tipo San Raffaele che è molto Antiba come si chiama sì Antiba ma turistico sì certo turistico infatti comunque a una quarantina di minuti in Antiba abbiamo individuato qualche campeggio che potrebbe essere per poveri per poveri sì beh ovvio esistono cose per poveri in costa azzurra non lo so spero spero di sì spero di sì ma infatti io ho idea di mangiare fuori sì tutto il tempo quei cinque giorni o quelli che sono sei set in Spagna e poi arrivare in Francia e fare un po' gran scatolette di tonno esatto e poi cucinare ho portato due fornelli quest'anno in campagna due non uno non uno due quattro bombole due due fornelli cosa devi farci ma io l'anno scorso ho fatto la pasta con le sarde in campagna ti capi fatti a fare la pasta con le sarde in campagna avevo un fornello una pentola e una padella quindi sei molto limitato nelle cose avevamo un frigo in cui non ci puoi tenere certamente le robe cioè ti scadono in tempo due ore e allora c'era il pancarre c'era il barattolino di alici ho detto vabbè mettiamo da brustolire sto pancarre quindi hai fatto il barcarre e il brustolito e poi sganellato con i pomodorini poi ci ho buttato le alici e poi ho buttato la pasta ed è stata l'apice culinario raggiunto in campeggio ecco e adesso ovviamente allora dobbiamo parlare del tema che ci tiene più legati a Lorenzo Masieri che è la sua fatta oltretutto in questi giorni che stanno finendo le prove d'esame della maturità adesso Carlo Porta credo che siano ancora facendo gli ultimi orari credo in questa settimana io l'ho fatto il 9 luglio bene quindi vedi te Carlo Porta scuola in cui siamo stati la settimana scorsa quando è iniziata il 19 giugno mi sembra se non ricordo male il giorno della prima prova di esame di maturità stessa scuola in cui tu hai fatto l'esame di maturità perché hai fatto quella scuola mi permetto di dire con ottimi risultati sentiamoli ma manco ti dico 94 94 mi pare 94 su 100 giusto non era 94 su 94 no no non si ha mai comunque 94 su 240 no non era 94 su 100 perfetto ok e è stata nominata più volte anche questa mattina prima di invitarti a entrare in studio la tua famosa cheesecake raccontiamo quanto tempo ho quanto vuoi no allora scherzi a parte nel corso dell'anno scolastico sarà stata la qua no sì no forse eravamo già in quinta il nostro professore di pasticceria ci chiede di fare una sorta di contest in cui sostanzialmente divideva la squadra la classe in quattro gruppi e ognuno doveva preparare un dolce da portare a una commissione perché ci sarebbe stato un pranzo con gente relativamente importante in quel del Carlo Porta e loro avrebbero avuto appunto una scheda su cui valutare l'aspetto il sapore la presentazione eccetera chiaramente la classe si è divisa in le ragazze bravissime le ragazze brave le ragazze molto brave e i ragazzi fancazzisti io chiaramente ero tra le ragazze bravissime lo sappiamo ero due pirla ero tra i ragazzi fancazzisti che faccio ma le squadre c'è una domanda quanti ragazzi fancazzisti c'erano più o meno noi eravamo 25 ragazze e 6 ragazzi e questi 6 ragazzi fancazzisti non si potevano mischiare insieme questi 6 ragazzi fancazzisti hanno detto noi ci chiudiamo a Riccio e mentre gli altri gruppi erano lì cioè come i romani chiusi con gli scudi così a corte io ho visto dei bozzetti dei bozzetti degli altri gruppi bellissimi in cui disegnavano il dolce eccetera eccetera settimane prima noi che non ce ne fregavano niente giocare con la playstation lo dico chiaramente lo dico chiaramente già lo zafferano il giorno prima mamma mia e abbiamo trovato questa cheesecake all'arancia ok abbiamo fatto questa cheesecake il nostro professore ci guarda come per me cosa state facendo che adesso dobbiamo presentare quella lì si presenta con la sfera di panettone con dentro la confettura e voi presentate con la cheesecake abbiamo vinto abbiamo vinto ve lo giuro tanto che il miracolo contro la Croazia e quelle cose lì abbiamo vinto ma è stato incredibile perché non ci credevamo nemmeno noi neanche le altre vi posso assicurare ma io vi denuncerei forte di questo successo ho deciso di ripresentare la stessa cheesecake all'esame di maturità il 9 luglio domanda eri solo l'unico che ha ripresentato la stessa cheesecake o anche gli altri del gruppo hanno pensato di rifare no no solo quindi oltre sei andato bene oltre anche perché come si può ben immaginare io puntavo tantissimo sul dolce non certo sulle altre materie puntavo tantissimo sulla pasticceria e niente è andato bene è andata bene comunque alla fine hanno apprezzato hanno detto era meglio quell'altra ma come avete fatto a vincere dopo di che complimenti a giallo zafferano questo giallo zafferano giallo zafferano questo poi dobbiamo tagliarlo Elisa questo è uno spot incredibile questo è uno spot incredibile io ho vinto noi noi abbiamo vinto con la vostra cheesecake una competizione all'interno del Carlo Porta una delle più rinomate scuole alberghiere a Milano forse la più rinomata grazie appunto alla vostra cheesecake abbiamo battuto ragazze che disegnavano i loro dolci avevano progetti avevano in mente un gusto un'esperienza un experience noi ci scaica l'arancia così ma io non sono senza parole sono senza parole perché già questa storia era assurda all'inizio adesso che mi hai raccontato tutta finora di dettagli cosi di dettagli no infatti quindi va bene ovviamente la pasticceria non è stata poi il tuo futuro gli altri sei del gruppo cosa non ci ho vedi a fare di uno sì ah vedi di uno sì vedi sì sì e fa robe molto belle vedi vedi fa robe molto belle ma lui era bravo comunque era dentro il gruppo dei fancazzisti un po' per per amicizia per amicizia sì no poi c'era chi era più fancazzista tipo te e chi meno tipo lui e tipo lui infatti lui ha continuato in quell'ambito benissimo allora andiamo con un po' di musica adesso poi torniamo qui di nuovo dopo una piccola pausa pubblicitaria e continuiamo fino alle nove qui in diretta su Crystal Radio insomma io sono venuto per ascoltare una canzone quale? Luciano? no dopo te la metto adesso andiamo con Willy Peyote dai nelle discoteche abbandonate Max Pezzali ragazzi ieri l'ho detto fuori onda ieri ero a vedere una cover band di Max Pezzali a carugate a carnegrate no no a qualcosa che finisce nate sì qualcosa che finisce nate per quelle zone qualcosa che finisce nate sicuramente c'è una festa da birra immagino esatto beer fest beer fest di karate 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 benissimo Max Pezzali che appunto ha ragione farà il concerto giusto a San Siro poi a Torino so che c'è tipo se non mi ricordo male sì ma sta facendo sta facendo il tour negli stadi con 15 anni di ritardo e vabbè o prima che stava troppo no ma dico cioè meno male perché se lo merita io sono contentissimo quando l'ho visto sono impazzito l'ho visto un sacco di volte però fa strano che Max Pezzali tu dici è una seconda volta San Siro questo eh sì sì quando invece non so spera e basta ha già fatto più concerti no 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 perché è la seconda volta ma l'altra volta ha fatto più di una serata esatto due concerti quindi diciamo che al momento spera e basta e Max Pezzali hanno gli stessi San Siro San Siro pensa a te pensa a te Vasco e ciao 30 mi ricordo che quando avevamo fatto tre anni fa un articolo su San Siro abbiamo messo è già Vasco era primo con quasi 30 concerti San Siro adesso nel frattempo ne ha fatti solo sette quest'anno prossimo anno non viene però hai visto prossimo anno non viene ma vado io da lui ah ok dove vai io l'ho detto ai miei amici ho detto ai miei amici escludo solamente Messina ok ma per motivi logistici per motivi logistici e Firenze per il fatto che sia l'ippodromo del Visarno non ti piace l'ippodromo perché parliamo di questo problema con i cavalli e l'ippodromo qual è il problema mi hanno fatto ho perso tutto hai perso tutto l'incommesso e quindi non riesci per avvicinare no scherzo no banalmente non mi piace vedere i concerti all'ippodromo perché sei troppo distante costano quanto un concerto allo stadio e poi io ti assicuro che quest'anno sono andato a vedere Vasco sul Prato perché lo voglio vedere lì a San Siro e lì c'è un coinvolgimento pauroso ero più volte girato quasi dietro a vedere sto muro di persone ok quindi stai dicendo che la prossima volta muro cioè sarai tra il muro di persone no mi vai in scadini no no Prato però dentro lo stadio ah perché ti piace la coreografia anche dello stadio sì sì poi ragazzi il coinvolgimento che ti dà Vasco ma tu che segui Vasco da sempre ma non hai fatto dei concerti non negli stadi Vasco cioè nel senso in un palazzetto non vale l'ultimo tour nei palazzetti credo che sia prima del poco prima del 2010 ah ok eh no quindi l'ha fatta da qualcuno sì qualcuno l'ha fatta poi dal 2010 adesso dico 2010 poi magari 8 7 non lo so da lì in poi sono grandi eventi sono stadi va bene ricordiamo abbiamo avuto 7 date la sua dimensione 7 date a San Siro quest'anno 4 credo a Bari 4 a Bari 2 ne ha già fatte 2 ne ha già fatte ha fatto 15 giorni praticamente qua hanno affittato per 13 giorni mi sembra lo stadio quanto costa affittare San Siro per San Siro allora ve la do con il pinzio che a me sembra veramente una cifra bassissima una cifra consentito di però solo l'affitto puro proprio l'affitto senza neanche le lenzuole e gli asciugamenti non è arredato senza la colazione inclusa ok 40.000 euro serata vabbè lo prendo per una festa di laurea infatti mi sembra poco però potrebbe essere effettivamente che proprio l'affitto non ti do niente entri lo guardi e te ne vai fuori nel senso poi in maggio ci siano spese escluse bollette quanto paga di bolletta da corrente un concerto di Vasco quanti kilowatt ci saranno lì quasi come quelli di Springfield del signor Barnes cosa del genere cosa ci sia poi tutta la sicurezza sì infatti tutte le deviazioni nella viabilità non lo so lo cercheremo quanto costa quanti milioni perché sono milioni di euro ti costano un concerto del genere sicuramente beh cercheremo che sono 60.000 Vasco forse anche un po' di più quasi no per i concerti tra i 55 e 60.000 dovrebbero essere una media di 100 euro al biglietto media fai 90 sì insomma perché su là in alto paghi quanto 60 euro il terzo anello ma giù nel Prato Gold quanto paghi Prato Gold 110 mi parla quasi a buon mercato io ti dico solamente che quest'anno stiamo valutando l'iscrizione al fan club quindi altre come dicono i ragazzi gambe piotte come si dicono Elisa Elisa tu che sei ragazza non lo so non lo so vedo come si dice 4 gambe 4 pali no i pali sono i 100 gambe anche i 100 100.000 le non lo so vabbè comunque piotte ma credo che sotto non la dici sotto non ce li hai sotto sono spiccioli 45 euro per l'iscrizione al fan club che ti dà diritto a cosa una maglietta qualcosa di merchandising una fascetta con scritto vasco qualcosa del genere perché vasco lo so gli vogliamo bene ma sappiamo che non è proprio la cosa più a buon mercato della musica italiana diciamo no sì ma sicuramente non per vasco più che altro tutti quelli che ci devono mangiare intorno a lui ecco sì ma i concerti in generale ultimamente veramente c'è anche andare su piccola digressione andare su ticket one becco biglietti di persone che magari gruppi più o meno semi sconosciuti che ho visto 5 anni fa il carro ponte a 15 euro 17 euro massimo 20 adesso a 40 questo va ok ok va benissimo viva la musica dal vivo bisogna finanziarla bisogna aiutarla adesso i cantanti purtroppo come unica fonte di guadagno probabilmente hanno i concerti live non più la vendita del supporto fisico gli streaming che ti danno quello che ti danno però ragazzi bisogna anche venirci incontro oltretutto adesso non mi ricordo chi in america ad esempio bruce prinstein ha avuto una orda di fan incavolati neri perché dicevano che costavano troppi biglietti il concerto di los angeles una roba tipo solo il parcheggio costava 80 dollari solo parcheggiare vicino alla venue in cui c'era il concerto infatti molti si sono un po' insomma risentiti cioè un po' la questione del caro concerti è una questione abbastanza aperta io in realtà al momento difendo ancora un attimino gli artisti perché effettivamente è l'unico momento in cui guadagnano diciamocelo dalle canzoni non guadagni più niente come premesso ho detto quello lo streaming non ti dà più quello che ti dà il supporto fisico in termini di introiti economici la musica dal vivo è viva teniamola è stata ferma un po' eccetera però adesso alcune vogliono ma non per vasco per vasco io spendo anche 150 euro però forse l'errore è proprio quello mi viene da dire più grande sei più in realtà potresti costare un po' di meno visto che tanto comunque lo riempi San Siro tu che sei piccolo che ha iniziato l'altro ieri e mi fai fatica a darmi 50 euro per venire al mio concerto insomma ho capito che sono tanti 50 euro però magari io ho mille fan come faccio a guadagnarci dalla mia musica io quando si tratta del rocker di Zocca non sono mica razionale no non sei razionale non sei razionale ma niente so che però c'è un altro artista che tu ami profondamente sì che arriva da Berlino non ho mai capito se è Orange no lui è Luciano lui è Luciano Luciano una canzone che ti accomuna anche ad Abrogio Cur ti dico in che senso mi dice Nello che lui ne sa di queste cose ai concerti non si attaccano alla corrente usano i generatori effettivamente c'hanno i gruppi elettrogeni che vanno a gasolio quindi pensa quanto neanche si inquina per fare un concerto e quanto si consuma per fare un concerto effettivamente si non hanno la bolletta della corrente hanno i gruppi elettrogeni è vero sono postaggiati dietro lo stadio si vedono anzi credo che lo stadio abbia i generatori ormai interni credo giustamente c'è una piccola centrale che è appunto un piccolo signor Barnes che va a prendere te lo vedi la mattina dice vado un attimo al benzinaio il signor Sassiro esce va con il suo fiorino al benzinaio che c'è qui in fondo a Via Novara fa un po' di tanniche quanto dura il concerto? ah due ore e mezza e fai boh fai quindici tanniche dai che ce la facciamo ne abbiamo tre che sono avanzate da quello di Sprinty che non ha fatto e quindi fanno così vabbè comunque dicevo Luciano Luciano viene dalla Germania da Berlino è un grandissimo trapper che so che tu ami tantissimo che ha fatto una canzone con Sfera e Basta questa passione per Luciano ti accomuna d'Ambrogio Curti che quando ha scritto questa canzone qua ha tolto le cuffie ha tagliato il filo ed è scappato c'è proprio tagliato il filo delle cuffie anche perché non sa mai che per disgrazia le posso riattaccare ma io sapete che difendo invece Luciano io ho chiesto esplicitamente prima di venire se si ascoltasse o meno Luciano se non si ascolta io non vengo lo sapevo lo sapevo allora qui alle 8.47 su Christian Radio a Good Morning Milano la grande musica di Luciano insieme a Sfera e Basta con Orange qui Good Morning Milano Lorenzo mi raccomando adesso incomincia devi anche ballarmela e cantarmela questo tu 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 fa così capito come fa? tu 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 più o meno va bene saltiamolo Luciano Orange era Luciano Orange insieme a Sfera e Basta non commento vuoi andare al concerto adesso vuoi andare a vedere il suo concerto a un ipotomo qualsiasi di Luciano Luciano quante canzoni avrà fatto non lo so in Germania ma che è conosciuto a me piace sempre questa cosa sicuramente è conosciuto anche in Italia non lo so perché l'ho fatto sentire anche dei ragazzi giovani questa canzone non la si conosce ah perché tu hai il preconcetto che i ragazzi giovani ascoltino beh ascoltano Sfera e Basta gente che conosceva Sfera e Basta non conosceva questa canzone mi ha detto quindi insomma capisci che comunque va bene siamo arrivati quasi alla fine Lorenzo siamo qua dobbiamo fine della puntata ma avresti mai pensato l'11 settembre l'anno scorso quando abbiamo iniziato che ci saremmo ritrovati qua dopo così tanti mesi a salutare considerando che ci conosciamo da tre anni sì effettivamente non è che è che è considerando che abitiamo a sei chilometri di distanza è vero sì effettivamente è vero un po' di poesia volevo mettere sì no è vero è vero e soprattutto la poesia che portano invece da sempre le nostre produce del programma abbiamo iniziato con Irene e poi è arrivata Viola e poi è arrivata Elisa sono il nostro producer di quest'anno che io ringrazio davvero tantissimo per il lavoro che hanno fatto è stato davvero bello avervi tutte le mattine qui alle sette del mattino aprire con voi la giornata e poi programmare e poi andare a pensare agli ospiti che arriveranno e insomma tutto davvero è il motivo per cui ci si sveglia felici anche se magari alle cinque del mattino come Elisa alle sei del mattino il primo producer è stato sottoscritto è vero è vero è vero non sono rientrato nella lista dei producer perché la voce la spalla la voce ti ricordi quando facciamo anche le gag comiche te lo ricordi si infatti vi invito a non recuperarle ci sono tutte vi invito a non recuperarle e tra poco chiederò quando ormai sarà un po' la rimozione esatto si si chiederò che vengano rimosse come si chiamava il tuo personaggio che non me lo ricordo lo start up era in difficoltà diciamo quello era comunque davvero grazie mille a tutti grazie anche ad Alberto che ci saluta per l'ultima volta di questa stagione ciao a tutti viva le vacanze davvero ma soprattutto viva Crystal Radio la radio libera la radio indipendente la radio che ci permette tutti i giorni di raccontare quello che succede a Milano e di farlo con un po' di sorriso ma anche approfondendo grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto quest'anno grazie a tutti coloro che hanno le rubriche con noi Filippo Poletti Tavara Malleo Ambrogio Curti che ci racconta tutte le settimane la sua musica insomma tantissimi che sono qua con noi Eri B con i suoi appuntamenti a cui non andrebbe Silvia Gatti che è stata con noi tantissime mattine portandoci degli ospiti interessantissimi ma davvero tante cose questo è Good Morning Milano oggi chiudiamo Good Morning Milano ma il 9 settembre lo riapriamo più bello e più pulito cosa cambia più pulito sì sì e dopo pulire lo studio è un anno che non puliamo sto studio praticamente infatti io per anni ti conosco tre stati quindi in mezzo sempre tutte le volte sono entrato qua che era ribaltato qualcosa e devo pulire sempre sempre d'estate si pulisce tutto quindi adesso abbiamo già cominciato a smontare dei pezzi tra parentesi già in questa settimana vedo vedo che c'è la cassetta di lag sì sì abbiamo tolto un po' di cose per poter fare le pulizie risistemiamo i cavi che sono quelli che si attorcigliano da soli non si sa come grazie anche a Nello che ci saluta un saluto e grazie della compagnia grazie a Tenello mi raccomando vi lascio nelle buonissime mani di Ambrogio Curti che gli etterà tutte le mattinate dalle nove in poi con senti questa Lorenzo grazie buone vacanze ci vediamo a settembre grazie a te Fabio ci rivediamo il nove settembre buone vacanze a tutti i cristallini ok grazie mille questo è Good Morning Milano che oggi chiude le sue trasmissioni qui dagli studi di Milano News e ricomincerà invece a settembre dagli studi di 8 e 55 minuti si conclude in questo istante oggi 28 giugno la prima stagione di Good Morning Milano sempre qui su Cristal Radio dagli studi di San Siro di Good Morning Milano vi diamo appuntamento appunto a settembre saremo ancora qui nei nostri studi che appunto come dicevo inseriremo e metteremo a posto tante novità ci saranno da settembre tante altre rubriche una una me la dici una no non te la dico no no e no perché diciamo che diamo l'A ad altre situazioni che usciranno da questa trasmissione andranno a popolare altre trasmissioni anche ti dico solo questo vi dico due nomi su tutti da tenere sott'occhio Silvia Gatti e Eri B tenetele sott'occhio insomma Good Morning Milano un po' come Talent Scout e per l'ultima volta le voci che avete sentito questa mattina sono Lorenzo Masieri e Fabio Ranfi che vi salutano vi do un appuntamento a settembre finisce qui la nostra prima stagione ci rivediamo il 9 settembre ciao a tutti buone vacanze a settembre ciao a tutti ciao